www.malariziapolio.it è una notizia nell'ambito dell'educazione finanziaria ed ieri, mercoledì 10, che l'Antitrust, la Gcom, ha aperto un istruttore su 6 influencer vi porto poi qui l'articolo da poter leggere che pubblicizzavano senza, sistematicamente, promettendo facili guadagni acquistando corsi per diventare ricchi, quindi leggete bene i nomi e le persone ad esempio queste due influencer sulle piattaforme social pubblicavano sistematicamente contenuti per pubblicizzare e offrire ricavandone una remunerazione indicazioni e o e metodi per ottenere facili, sicuri guadagni tramite l'investimento in criptovalute senza far riferimento ai relativi rischi connessi, la parola rischi, questa sconosciuta e facili guadagni per loro, quindi leggete bene, informatevi attenti che sui social è una giungla e non esistono pasti gratis buona educazione finanziaria a tutti